Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziero regionale del Fiuli Venezia Giulia. Apriamo la pagina dell'informazione con la notizia di un brutto incidente mortale accaduto alla Tisana. Un poliziotto in sella alla sua moto, un'onda, perde il controllo e muore in autostrada. Tragedia in strada ieri verso le 11 sulla A4, poco dopo l'ingresso nell'autostrada del casello di la Tisana, dove un centrauro che viaggiava su una moto-onda di ritorno dal Biker Fest di Lignano-Sabbia d'Oro ha perso il controllo della due ruote ed è rovinato a terra. Nell'impatto con l'asfalto, l'uomo ha riportato gravissime ferite e a nulla sono valsi i soccorsi prestatili dal personale medico del 118, giunto sul posto con l'elicottero. L'uomo, 42 anni, originario di Romanza, residente a Villesse, è morto per le lesioni. Si tratta di Fabio Candussi, agente di polizia in servizio da tempo alla squadra volante della Questura di Corizia. L'agente, stimato per il suo impegno sul lavoro, aveva trascorso la notte a Lignano e stava tornando a casa per raggiungere i parenti e partecipare a una cerimonia per la prima comunione. A rilevare l'incidente, la polizia stradale di Palmanova che ha raggiunto il punto dello schianto che non ha coinvolto altri mezzi e che non ha causato disagio alla circolazione per cui la viabilità in A4 non ha subito rallentamenti. La notizia della morte di Candussi, che lascia la moglie e un figlio di 22 anni, ha profondamente scosso non solo i suoi congiunti ma anche tutti gli amici e i colleghi ora in lutto. Sul fronte incidenti è stata una brutta domenica anche nel comune di Tricesimo, dove verso le 11.45 sulla strada provinciale 105, tra le località di Fra e Lacco e Brai da Matta, poco dopo il cavalcavia sulla ferrovia, si è verificato un serio incidente che ha coinvolto tre ciclisti provenienti da Lone e Riacco, due di Pagnacco e uno di Muruzzo. Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, il gruppo di sportivi tra i 25 e i 35 anni di età è entrato in collisione con una Fiat Idea grigia che stava sopraggiungendo da Tricesimo, il cui conducente della zona è rimasto in leso. Due dei ciclisti invece sono rimasti feriti e trasportati con due auto lettighe all'ospedale di Udine. Uno è stato trascinato per circa 5 metri e ha riportato serie fratture alle costole, l'altro si è spaccato i denti, ha preso una botta in testa e colpi al torace. In colume invece il terzo sportivo è il conducente della Fiat Idea. E adesso andiamo a Cergi Vento, dopo l'incendio al centro profughi, ora indagini sono a tutto campo e chissà qualcosa si faccia avanti. Perché per individuare il o i responsabili dell'incendio che nella notte tra venerdì e sabato ha gravemente danneggiato la sede della comunità Bosco di Musseis, ogni input, ogni segnalazione risulterà prezioso. È un'indagine a 360 gradi infatti, quella condotta in questione dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Udine dopo la denuncia fatta dal responsabile della comunità Renato Garibaldi. E visto che per il momento l'unica cosa certa è che si è trattato di un'azione di natura dolosa, cioè di un incendio volontariamente appiccato dalla mano di una o più persone, gli inquirenti al comando del capitano Stefano Bortone non escludono alcuna pista. Si parte da due punti di innesco individuati dai vigili del fuoco all'interno e all'esterno della struttura, certo, e si continua con la verifica e la controverifica di ogni segnalazione già presentata e che sarà presentata da chi ritiene di conoscere episodi dal passato, motivi di ostilità tali da spingere qualcuno a commettere un gesto tanto sconsiderato. L'allarme era scattato alle 3.30 e a Dallo era stato un operatore della comunità non appena notati le fiamme e il fumo levarsi dall'edificio, interamente realizzato in legno e con struttura portante in lamellare. Passata l'emergenza, dopo aver domato l'incendio e liberato i locali dalla coltre di fumo, i pompieri avevano proceduto con un sopralluogo tecnico. E vi raccontiamo ora di un gesto che ci ha tutti commosso. Andiamo a salvi dal tagliamento, Elia è un bambino che muore a 11 anni di tumore, il suo testamento è stato questo, regalate ai bambini i miei giochi. Aveva occhi grandi e profondi Elia e un sorriso per tutto il mondo. Fin dalla nascita, il 16 febbraio 2005, è stato circondato dall'amore di mamma Alexandra, papà Gianluca Rosarin, figlio unico, ha incontrato durante i suoi 11 anni di cammino tanti amici che gli hanno voluto bene. Elia però alla fine ha dovuto arrendersi, lasciando tutti troppo presto. Un tumore al cervello se le prato via all'ospedale di Pordenone. Quando si è reso conto che le cose non andavano bene e ha capito cosa gli sarebbe accaduto, ha raccontato il papà, mi ha detto qualcosa che non potrò mai, mai dimenticare. Mi ha detto, papà, mamma, quando non ci sarò più, date i miei giocattoli a questi bambini. E ha scritto una lista con alcuni nomi. Poi ha detto alla sua mamma, sono orgoglioso del papà che ho avuto, il migliore. Io ho deciso di nascere in questa famiglia. Grazie all'associazione, la partita da vincere, Elia era riuscito a realizzare il suo sogno. Aveva infatti incontrato tanti suoi idoli sportivi, in particolare i giocatori della Juventus e dell'Udinese. Era sceso in campo tenendo per mano il portiere Gianluigi Buffon. Segnaliamo alcuni lavori lungo le nostre autostrade. Lavori di manutenzione delle fibre ottiche in A28 da lunedì 23 a venerdì 27 maggio. Un intervento che richiederà la chiusura della corsia in direzione di Portogruaro in corrispondenza dei lavori nei tratti Sacile-Ovest, Sacile-Est e Pordenone, centro commerciale e Cimpello. Inoltre, per quanto riguarda i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza in A28, la cui conclusione è prevista per la metà del mese di giugno, nella giornata di giovedì 26 maggio sarà eliminato lo scambio di carreggiata e rimosso il cantiere attivo nel tratto tra Porcia e Pordenone Sud in direzione Portogruaro. Sulla A4 Venezia-Trieste, chiusura per circa un chilometro della corsia di sorpasso tra Villese e Palmanova in direzione Venezia per operazione di verniciatura dei New Jersey in cemento. Le attività si svolgeranno da lunedì 23 a sabato 28 maggio in orario diurno. Ancora in A4 chiusa la corsia di marcia all'altezza dei lavori nel tratto. Redi Puglia-Palmanova, direzione Venezia, per un intervento di risanamento nella pavimentazione programmato dalle 21 di mercoledì 25 alle 6 di giovedì 26 maggio. E nel fiori Venezia Giulia, scoperte dalla Guardia di Finanza, delle maxi truffe all'Inps con tre denunce. Vediamo di cosa si tratta. Ha riguardato 19 regioni italiane e 81 province l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla denuncia di 517 persone accusate di aver indebitamente percepito dall'Inps l'assegno sociale. La truffa ai danni dello Stato è stata quantificata in 16 milioni e mezzo di euro. In Friuli-Venezia Giulia sono state denunciate tre persone che avrebbero ottenuto complessivamente, senza avere diritto, 150 mila euro. L'attività, denominata Italian South, è stata condotta dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e repressione frodi comunitarie sulla base dei dati forniti dall'Inps e ha consentito di individuare e di porre fine a un diffuso sistema di percezione indebita della pensione sociale. L'operazione ha riguardato tutto il territorio nazionale e ha permesso di scovare centinaia di cittadini italiani che in seguito all'ottenimento dell'assegno sociale si erano trasferiti all'estero, non rispettando pertanto il requisito essenziale dello stabile residenza nel nostro Paese. Hanno poi continuato a riscuotere l'emunamento, facendoselo accreditare in banca o tornando saltuariamente in Italia appositamente per ritirare le somme allo sportello. Sono stati accertati 511 casi irregolari e sono state denunciate 517 persone per truffa continuata ai danni dello Stato e della collettività. Dei tre soggetti coinvolti in Friuli-Venezia Giulia, due sono della provincia di Udine, uno di quella di Trieste. L'attività ha consentito non solo di iniziare a recuperare le somme indebitamente percepite dai responsabili, ma anche di far risparmiare alle casse dello Stato 3 milioni di euro all'anno per i prossimi esercizi. Le tre regioni in cui sono stati riscontrati i maggiori picchi di irregolarità sono la Sicilia con 123 denunce e 3,7 milioni di euro riscossi in modo illecito, la Campania con 98 denunce e 3,4 milioni e la Calabria con 75 denunce e 2,3 milioni di euro. Andiamo adesso a Porcia, se ne è andata 101 anni, compiuti da pochissimo all'inizio di maggio, Fiorina Turchette vedova Salamon. La donna era secondo genita di nove fratelli, tra i quali Celeste, nota figura di alpino reduce dalla campagna di Russia, scomparso nel 2014. Nonna Fiorina Turchette, amata e apprezzata nella frazione Poli-Rilliese, ha vissuto una vita tutta dedicata alla sua famiglia, al marito Andrea e ai figli Zephira e Sergio, che l'hanno resa nonna di quattro nipoti, Renato, Silvano, Marisa e Ivan, poi nonna di Mattia, Andrea, Aurora e Martino e infine Trisavola della piccola Lia. E andiamo adesso a Udine. La supercar dei vigili resta in garage perché manca l'aggiornamento della sim. Vediamo il servizio. Una supercar da oltre 50.000 euro ferma in garage per colpa di una minuscola sim da pochi euro. È accaduto a Udine dove l'auto dotata di occhi elettronici, ultra vigili, ingaggiata dalla polizia locale per incastrare i furbetti che girano sui veicoli rubati o senza assicurazione o con la revisione scaduta e per riprendere le scene di operazioni di un certo rilievo, è arrivata ormai quasi un mese fa a quanto risulta. Ma dopo i test è ancora ferma i box e non ha potuto nemmeno cominciare a fare il suo mestiere. La super macchina con barra attrezzata e telecamere per la lettura dinamica delle targhe, dei veicoli in sosta o in movimento, costata con tutte le dotazioni 5.688 euro, IVA compresa, con la regione che ha finanziato l'acquisto con i fondi del pacchetto di sicurezza. Infatti, per poter essere utilizzata, ha bisogno di un innesco informatico, come spiega il dirigente del servizio Sistemi Informativi e Telematici del Comune, il problema è legato alla necessità di riconfigurare la scheda SIM e sui tempi, non proprio celeri, per arrivare a una soluzione avrebbe inciso un problema di comunicazione con la dita fornitrice. Fatto sta che da un mese la supercar da oltre 50.000 euro è ferma in garage per l'aggiornamento della SIM. Ci spostiamo a Maniago, esposto alla Corte dei Conti sulla Guida Verde di Maniago, pubblicazione finita nel mirino dell'opposizione per gli oltre 400 errori presenti. Dopo la battaglia legale tra il Comune e di guida, impresa di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, cui il municipio ha affidato la realizzazione dell'opera, salvo poi revocaglielo, il caso della guida finisce sui tavoli della magistratura contabile. Ancora una volta è il consigliere di minoranza Ilia Franzin a muoversi sulla questione, annunciando l'intenzione di procedere con la segnalazione per danno erariale che al momento sfiora i 12.000 euro. Franzin aveva già sollevato il problema degli errori con un'interrogazione, poi trasformata in mozione di censura, nei confronti dell'assessore Anna Olivetto, che aveva il compito di seguire la stesura della guida. Nei giorni scorsi il consigliere aveva reso nota la condanna del Comune da parte del giudice per il mancato pagamento di una fattura di 4.977 euro a e di guida, fattura che l'esecutivo Carli sostiene di non aver mai ricevuto. Intanto però il Comune, che si è opposto all'ingiunzione di pagamento per le prestazioni editoriali svolte dalla società campana, ora dovrà sborsare più di 10.000 euro tra le spese di avvocato, processo e servizio. L'assessore Olivetto aveva dichiarato da parte sua che l'opposizione in tribunale era un atto dovuto da parte del municipio. E andiamo adesso a Pordenone, nuovo ospedale, dai conti segreti mancano 57 milioni. Vediamo di cosa si tratta. La mancanza di una parte dei finanziamenti, oltre alla cifra complessiva di quasi 160 milioni di euro già disponibile per il contenitore, necessari per il contenuto e il cuore tecnologico del futuro ospedale di Via Montereale, è stata spesso al centro di fuoribonde polemiche tra la regione e alcuni partiti pordenonesi di opposizione, in particolare Forza Italia e Fratelli d'Italia. Polemiche e attacchi politici formalizzati anche in recenti interrogazioni consigliari a Trieste che non sono rientrati nemmeno dopo l'addio del direttore generale Paolo Bordone, partito per un importante incarico a Trento. 30, 60, altri 8 che arriveranno dallo Stato ma che, almeno al momento, sarebbero solo promessi e non decretati. Insomma, sui milioni mancanti girano diverse cifre. Nello scontro politico spesso numeri e dati vengono usati come clave per colpire l'avversario di turno. Tra i più attivi a combattere l'amministrazione regionale c'è senza dubbio il consigliere regionale Luca Ciriani. C'è però, forse per la prima volta, un documento contabile riservato ma che è circolato negli ultimi giorni. Secondo il documento, redato dall'azienda e dalla Direzione Generale della Sanità, la cifra mancante sarebbe esattamente di 57 milioni e 180 mila euro. Nella somma complessiva, alla voce arredi, corrisponde la cifra di poco più di 8 milioni di euro. Al capitolo delle tecnologie biomedicali corrisponde la cifra di 24 milioni e 400 mila euro. A questo importo vanno però aggiunti gli allestimenti delle sale operatorie dell'area, operatorie di terapia intensiva, sale di cardiologia e radiologia interventistica e la sala cesarei del blocco parto. Complessivamente l'allestimento medico-tecnologico richiederà una spesa di 36 milioni e 270 mila euro. C'è poi un altro aspetto che, nelle cifre circolate fino a oggi, era rimasto nascosto tra le pieghe. Per le reti telefoniche, wifi, server, tv, data center, sistema di videosorveglianza, sistema elimina code, sistemi multimediali di chiamata dalla stanza ad aggenza, per i quali saranno necessari oltre 9 milioni e mezzo di euro. Altri 3 milioni e 300 mila euro sono necessari per l'automazione di alcuni laboratori e impianti. Il totale è 57 milioni e 180 mila euro. Fuori dall'elenco restano le eventuali spese di sistemazione del padiglione C per altri 700 mila euro. Postazione 118, anatomia patologica, manutentori, formazione e uffici amministrativi. Bene gentili telespettatori, era questa l'ultima informazione per quanto riguarda il notiziario regionale del Fiuli Venezia Giulia. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie a tutti.